Domenico è arrivata una bella vittoria contro il Misimero, un avversario non facile da affrontare. Ma innanzitutto è stata sicuramente una bella partita perché il Misimero è un'ottima squadra e l'ha dimostrato anche a Santa Flavia secondo me. Sì, è una bella vittoria, io credo che alla fine è stata anche meritata per quello che abbiamo prodotto e per come siamo stati in campo, permettendo appunto che loro sono veramente una bella squadra. Ora si fa fuori casa contro una delle squadre che forse, tra quelle che abbiamo visto a Santa Flavia, è stata una di quelle meglio organizzate, la Sant'Angiolese, che ha appena un punto dietro. Sì, sì, ma sicuramente è una bella partita. Noi abbiamo adesso l'obbligo di cercare di arrivare il più in alto possibile, è quello che ci siamo prefissati. Poi i play-off, se ci si faranno o non si faranno, poi lo vediamo. Però andare a giocare a Sant'Angelo è una bella sfida perché sono una bella squadra, allenata bene, giocano un bel calcio, l'abbiamo visto qui a Santa Flavia. hanno un campo abbastanza largo che può permettere comunque di fare una buona partita anche da parte nostra, quindi sicuramente sarà una partita come quella di domenica, nel senso aperta a tutti i risultati, giocata a viso aperto, con la possibilità di vedere veramente un buon calcio da tutte e due le parti. Ora guardiamo un attimo la parte alta della classifica. Tu che hai incontrato sia il Gangi che il Geraci, secondo te come finirà questo campionato? Non lo so, dico, io sono sincero, sono due squadre veramente forti, tutte e due costruite bene, una forse più adatta alla categoria come il Gangi, nel senso che è molto molto ben messa in campo, ha una fisicità importante, l'altra il Geraci ha dei giocatori talentuosi che sicuramente fanno pendere l'ago della bilancia. Sono tutte e due delle belle squadre, non lo so come finirà, sicuramente sarà... io sono del parere che vinceranno tutte e due fino alla fine, fino allo scontro diretto, tutte le partite che ci sono a disposizione e questo per noi può essere uno svantaggio perché significherebbe che non ci sono i play-off. Però, ripeto, hanno anche costruito delle squadre con dei budget diversi rispetto a tutte le altre squadre del campionato e quindi sicuramente lotteranno fino alla fine. Non ti so dire chi in questo momento può provare, forse 51% Geraci in questo momento perché è amante e 49 ganci, ma soltanto per un problema dei due punti che li separa.